Musica Ciao umanità e benvenuti in questo nuovo episodio di Managgia con la Mostarda Questo non è un Carlo Show Adolfo corri qui c'è un uomo legato Arriva subito Mio dio Abbattiti? Si Slegalo Prendiamolo su Cosa ti è successo? Portiamolo lì Appoggialo via Ehi, riesci a parlare? Sì Sì Cosa ti è successo? Dicci cosa ti è successo Stavo registrando e ricordo Ricordo E' un paio Un paio E' un paio Un paio Un paio Un paio Scusi Secondo te abbiamo fatto il bene a lasciare Talo a casa sua Penso fosse il luogo più sicuro dove lasciarlo Non c'è ragione Dai andiamo a farti un giro Stiamo solo facendo te Guarda Adolfo c'è un bel E' simile all'ombrano di cui ci ha parlato Paolo C'è un telefono Già sbloccato con un video Sapevo mi avreste cercato Bene, vi do un appuntamento alle 6 in punto a piazza Garibaldi Vi aspetto lì Adesso che li facciamo? Non ci resta che andare all'appuntamento Adesso andiamo a Paolo? Non c'è tanto Andiamo È una trappola Mannaggia quella mostarda Non c'è tanto 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 Non c'è tanto